Ciao, sono Katia di Euroatria e in questo video vi presento dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nelle situazioni e ambienti di lavoro dove l'atmosfera può essere inquinata da gas e vapori, si utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie abbinati a filtri. Proponiamo una maschera leggera, semplice da usare e da mantenere. Maschera pienofacciale modello C701 di DP Secure. Nuova maschera pienofacciale che tramite l'innovativo Air On Inspiration System riesce a coniugare un elevato fattore di protezione ad un minimo livello di resistenza respiratoria, garantendo comfort e sicurezza all'utilizzatore finale. Può essere impiegata con filtri antipolvere e antigase combinati, dotati di raccordo filettato EN 148-1, offrendo così un'elevata protezione da gas, valori e particolati solidi e liquidi. La maschera è disponibile con bardatura 5 tiranti intercambiabile. Sistema di inspirazione dell'aria con valvola di inspirazione rettangolare e assenza delle valvole di non ritorno, che consente allo schermo di non appanarsi, garantendo un livello minimo di resistenza respiratoria. Il visore in classe ottica 1 consente un ampio campo visivo senza distorsioni e aberrazioni. La maschera è certificata in classe 3 secondola EN 136, massima resistenza meccanica al calore e alle fiamme. Pesa 620 grammi, campi di applicazione marino, industriale, ospedaliero, industria, chimico-farmaceutica, agricoltora. Filtro combinato multi-range modello D-RIN 500 A2-B2-P3R-D-NBC offre protezione contro gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65 gradi, gas e vapori inorganici e particelle di sostanze tossiche e altamente tossiche P3 con l'innovativo BioStop con test aggiuntivi come filtro di protezione NBC. Il Centro Tecnico Logistico Interforze NBC italiano ha dichiarato dopo averlo testato idoneo per la protezione delle vie respiratorie da aggressivi chimici di guerra NBC in uno scenario sia di tipo militare che civile, ovvero per l'utilizzo da parte delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, protezione civile, ecc. La durata del filtro dipende da diversi fattori, tra i quali la temperatura ed umidità dell'aria inspirata, la concentrazione o la combinazione degli agenti contaminati inspirati e naturalmente dall'aria respirata dell'utilizzatore. Pesa circa 350 grammi, paese di origine Italia. Per maggiori informazioni su questo prodotto cliccate il link in descrizione o contattateci, seguiteci sui social, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanellina delle notitiche così da non perdere le prossime novità. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like. A presto!